Musica Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo questa volta con la sanità occupandoci del punto nascita dell'ospedale di Sulmona perché l'ASL potenzia il punto nascita. Da febbraio ci sarà l'arrivo di due nuove ginecologhe. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Dal primo febbraio arriveranno due nuove ginecologhe nel reparto di ossetrice ginecologia dell'ospedale di Sulmona. Ad annunciare l'onda TG il direttore generale dell'ASL Avezzano Summona L'Aquila, Rinaldo Tordera, che potenzia il punto nascita Peligno, la cui presenza sul territorio si è rivelata fondamentale ai svariati casi, soprattutto della gestione delle ultime emergenze. Dal primo febbraio arriveranno proprio nel reparto di ossetrice ginecologia due nuove dottoresse, dottoresse, tra l'altro due dottoresse donne che so che sono molto brave, che svolgono anche un'attività molto particolare, una di essere cosiddetta morfologica, che è un controllo molto importante per le donne che devono partorire. Quindi voglio dire, ci sono tutte le condizioni perché, come dicevo prima, questo trend negativo venga invertito. Il 2016 si è chiuso con circa 200 parti, numeri ancora lontani dai 500 del decreto Lorenzin, ma l'inversione di tendenza si è vista negli ultimi mesi. A dicembre si è battuto il record di 28 parti in 31 giorni. Solo da maggio è stato praticato il parto in analgesia con l'uso del gas analgesico e a fine anno anche quello con epidurale. Le pazienti stanno riacquistando fiducia nel reparto, il che lascia ben sperare per il futuro. Il punto nascita non è stato disattivato e siamo ancora nelle condizioni di assicurare questo servizio per tutte le mamme, per tutte le famiglie che vogliono far nascere i loro bambini a Sulmona, rimarca il direttore Tordera, convinto che ci sono tutte le condizioni per alzare i numeri e ribaltare il trend negativo. Ci dobbiamo credere noi, ci devono credere le famiglie, ma soprattutto ci devono credere molto tutti gli operatori all'interno dell'ospedale, conclude il manager. Quindi i primi che ci devono credere sono gli operatori, sono i ginecologi, sono gli ostretici e le ostetriche del nostro ospedale, sono loro che devono trasmettere alle famiglie, alle mamme, che c'è una condizione di sicurezza, che c'è una condizione di tranquillità e che quindi non è necessario che si facciano assistere anche da medici che magari non operano professionalmente sul nostro territorio, ma magari operano altrove, e quindi inevitabilmente poi magari suggeriscono alle mamme, ai futuri papà, di far nascere i loro bambini altrove. Per Tordera è arrivato il momento di innescare un nuovo meccanismo virtuoso per rilanciare una volta per tutte il reparto di ostetricia e ginecologia. Il nuovo ospedale da realizzare con il secondo lotto, partito a fine dicembre, il punto nascita peligno da rilanciare e l'attuazione della rete emergenza-urgenza, il futuro dell'ospedale dell'Annunziata, alla luce della classificazione dei presidi operata dal decreto Lorenzin, i tempi lunghi della riabilitazione extraospedaliera, il blocco delle tessere sanitarie. Saranno questi i temi al centro della rubrica sociale. Un occhio per tutti in onda questa sera alle 21.30 sulla nostra emittente, canale 18 del Digitale Terrestre. Ospite della trasmissione di Andrea D'Aurelio sarà appunto il direttore generale della ASLA, Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Rinaldo, Tordere. E adesso ci occupiamo del maltempo perché si va verso lo stato di emergenza regionale. Sentiamo. La regione Abruzzo si accinge a raccogliere dei comuni dati relativi all'emergenza neve in corso, lo scopo di istruire il riconoscimento dello stato di emergenza regionale. A beneficiarne saranno soprattutto le piccole realtà comunali, che sono le più colpite dalle avversità atmosferiche in atto. Dallo scorso 5 gennaio, infatti, l'intero Abruzzo è alle prese con la morsa del freddo e della neve. Le bufere di neve e la contestuale formazione di ghiaccio hanno cagionato non pochi problemi alla viabilità dostradale, a quella di competenza ANAS, oltre che alle strade provinciali e comunali in maniera più diffusa e articolata. A risentirne sono stati molti centri abruzzessi, soprattutto le comunità dei centri montani, cui disagi sono stati purtroppo spesso alimentati dalle ripetute interruzioni di energia elettrica in svariati nuclei abitati e frazioni. Per tali motivi interviene il sottosegretario regionale delegato alla protezione civile Mario Mazzocca e, nonostante l'emergenza sia ancora in corso, insieme al presidente Luciano D'Alfonso abbiamo interessato il sistema di protezione civile regionale, affinché si predisponga per tempo l'occorrente attività propedeutica a riconoscimento di una compartecipazione alle spese sostenute e rendi contabili a seguire degli interventi effettuati dei comuni durante l'attuale e perdurante fase emergenziale. Stiamo attuando, conclude in definitiva, il tema fondante della sussiderietà nei fatti. E' finito a tarda notte l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agnone in provincia di Sernia che con il Gatto delle Nevi hanno raggiunto la frazione Valli di Schiavi d'Abruzzo isolata da una settimana, come possiamo documentare da questo supporto fotografico. hanno prestato assistenza a 30 persone portando pane, pasta e latte. Questa mattina la macchina dei soccorsi è partita per raggiungere altre 70 persone in casa e rimaste isolate in località Valloni. Finalmente dopo giorni di cielo coperto c'è il sole, ha affermato il sindaco Luciano Piluso. Mi auguro che oggi si possano raggiungere tutti i miei compaesani. Una battaglia contro la natura e contro il tempo, ma ce la stiamo mettendo tutta. Intanto da ieri sera sono a lavoro nel centro del paese a 1172 metri di quota i volontari della protezione civile della Valtrigno di San Salvo che prestano assistenza agli anziani consegnando medicine e generi di prima necessità. La neve deve essere spalata a mano per creare cunicoli che consentano di passare e raggiungere le abitazioni. Abruzzo dunque nella morsa del gelo, dopo le frequenti nevicate dei giorni scorsi, in particolare nell'Aquilano la temperatura è scesa quasi ovunque sotto zero registrando anche meno 19,4 gradi sulla piana di Navelli. Sulla costa la temperatura è vicina allo zero e si segnala il pericolo di ghiaccio soprattutto sulle strade che non sono state pulite dalla neve nei giorni scorsi. Sono 2000 al momento, secondo le stime dell'azienda comprensoriale acquedottistica di Pescara le utenze rimaste senza acqua. I problemi principali sono dovuti ai contatori ghiacciati in corso di sostituzione almeno 1500 unità. La situazione potrebbe tornare alla normalità entro le prossime 36 ore tenendo conto dell'evolversi delle condizioni meteo. Scuole chiuse oggi in molti comuni del Pescarese e del Chietino. Un netto miglioramento delle condizioni meteo dovrebbe arrivare solo nella giornata di domani. Adesso voltiamo pagina. Otto anni di abbandono e odissea. È un'odissea infinita per i residenti di Via Turati a Sulmona. Il servizio di Andrea Daurelio. Otto anni. Sono passati esattamente otto anni da quel 10 gennaio 2009 quando si verificò l'evento franoso di Via Turati. Da lì cominciò il lento e inesorabile abbandono di un quartiere della città di Sulmona. A distanza di tutto questo tempo la strada in questione resta ancora da riqualificare nonostante gli annunci e gli impegni presi dalle varie amministrazioni comunali. Rifiuti accumulati oltre alle transenne, cespulli di erbacce ovunque, orinatoio pubblico, ascensore guasto da anni. Via Turati è diventata la terra di nessuno. In queste ore sono i residenti della zona ad alzare la voce, a richiamare l'attenzione degli organi competenti perché dopo otto lunghi anni cessi il degrado e si arrivi finalmente a una piena riqualificazione del quartiere tenendo conto anche della vicina collocazione di Piazza Ruggeri, luogo strategico per l'arrivo dei camper nel periodo turistico. Per la sistemazione di via Turati il comune di Sulmona nell'era di Peppino Ranalli investì 110.000 euro. La regione invece stanziò 500.000 euro contro il dissesto idrogeologico. La riqualificazione di Piazza Ruggeri rientrava invece nel collettore turistico dei fondi FAS. All'amministrazione Casini tocca ora l'ardocombino di riprendere il progetto mentre dall'altra parte gli abitanti della zona sono stanchi di tollerare le lungaggini amministrative tant'è che nei mesi scorsi sono state avviate anche azioni di protesta come una petizione da presentare alla prefettura e striscioni provocatori con la scritta non via Turati ma via Franati. Torniamo ad occuparci dei disagi del maltempo perché sentiamo i consigli della SACA alla società che gestisce il servizio idrico nel centro Abruzzo su come prevenire il gelo dei contatori. Sentiamo. Proteggere con materiale isolante i contatori ubicati al di fuori dei fabbricati per le abitazioni locali non utilizzate nel periodo invernale soprattutto nei comuni montani è invece preferibile provvedere alla chiusura della chiave d'arresto posta in prossimità del contatore svuotare il proprio impianto idraulico dall'acqua presente attraverso i rubinetti e proteggere il contatore con materiali isolanti. Questi alcuni degli accorgimenti diramati dalla SACA in un bademecum per evitare il gelo dei contatori dopo l'ondana di maltempo. Le rigide temperature di questi giorni che potrebbero ottenere scendere possono danneggiare i contatori soprattutto se collocati all'esterno dei fabbricati o in strutture non coperte. Per questo motivo invitiamo gli utenti a prendere alcune semplici precauzioni per evitare la rottura dei contatori ed evitare disservizi con l'erogazione dell'acqua spiegano dalla SACA specificando che un controllo periodico previene il rischio di trovare la casa allagata a causa di un tubo spaccato dal gelo. Si ricorda, prosegue la nota, che la custodia e la protezione del contatore colora posto all'interno della proprietà del cliente è a totale carico del cliente stesso che deve adottare tutte le misure idonee a prevenire eventuali danni. Si avverte inoltre di non avvolgere le tubature dell'acqua con lana di vetro o stracci, questi materiali assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la situazione. Inoltre tali materiali costituiscono un potenziale luogo di annidamento per insetti e sporcizia. Se il contatore dovesse congelarsi è assolutamente sconsigliato manovrare le chiavi di arresto o scongelarlo con fiamme libere o altre fonti intense di calore concludono dalla saga. Se le nevicate dopo l'eccezionale ondata di maltempo dei giorni scorsi stanno dando una tregua in Abruzzo nelle ultime ore il grande protagonista è il freddo. Vero e proprio gelo nella provincia dell'Aquila con il record di meno 19,4 gradi registrato nella notte a Navelli a 723 metri di altezza. L'Aquila città 625 metri questa mattina si registravano meno 12,8 gradi. Freddo polare secondo le rilevazioni anche ad Avezzano a 770 metri dove sempre questa mattina la temperatura è scesa fino a 10,3 gradi sotto lo zero. A Pescasseroli Paesino di Montagna a 1170 metri il termometro ha raggiunto i meno 17,1 gradi e a Santo Stefano di Sessanio a 1220 metri si sono registrati i meno 15,8 gradi. Sul Monte Genzana a 1980 metri sul livello del mare la temperatura è scesa a meno 15,7 gradi nella famosa Rocca Calascio a 1450 metri la temperatura è scesa a meno 11,7 gradi e nella zona del lago di Campotosto a 1410 a meno 12,1 gradi. gelo anche sulle montagne del Terramano al rifugio Franchetti sul Gran Sasso a 2433 metri di altitudine il termometro è arrivato a meno 15,9 gradi a Prati di Tivo a 1450 metri a meno 10,4 gradi. e per la gioia degli amanti della neve dopo l'abbondante precipitazione di questi giorni alvia la stagione invernale degli attesi treni della neve sulla Transiberiana d'Italia la linea ferroviaria Sulmona Isernia. Le partenze da Sulmona programmate da tempo dalla Fondazione Ferrovie dello Stato e dall'Associazione Le Rotaie prevedono il viaggio di andata e ritorno a bordo delle caratteristiche carrozze d'epoca per raggiungere le stazioni d'alta quota della linea praticare le tante attività di svago ed escursioni sulla neve previste presso la stazione di Palena e visitare i paesi di Pesco Costanzo Roccarasso e Campo di Giove facilmente raggiungibili con il treno e balzati in questi giorni agli onori delle cronache nazionali proprio per l'eccezionale nevicata che li ha interessati. I partecipanti senza dover usare l'auto su strade di montagna avranno l'opportunità di viaggiare sull'antico e suggestivo convoglio degli anni 30 per godere dal finestrino uno spettacolo completamente bianco. Si comincia domenica 15 gennaio per poi proseguire domenica 22 e a febbraio domenica 5 e domenica 12. I posti sono limitati e possono essere prenotati sul sito www.lerotaie.com cambiamo argomento tre giorni di orientamento al polo umanistico Ovidio di Sulmona venerdì comincia il liceo artistico ce ne parla nel servizio Andrea D'Aurelio al via l'orientamento del polo umanistico Ovidio con la tre giorni di Open Day per illustrare i piani formativi personalizzati per gli studenti talentuosi nello sport e nella musica il piano per l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali le certificazioni Cambridge per le lingue straniere le certificazioni ECDL per la patente europea del computer i progetti Erasmus Plus e tutta la progettualità che coinvolge le tre scuole si comincia il 13 gennaio con l'Open Day del liceo artistico dalle 15 alle 19 dove i ragazzi delle scuole medie potranno visitare la struttura rimessa a norma nel 2014 secondo la più recente normativa antisismica gli studenti guideranno i visitatori attraverso i numerosi laboratori attivi ricchi di novità che documentano il lavoro svolto all'interno dei tre indirizzi arti figurative architettura e ambiente design della moda e del gioiello il 14 gennaio dopo il successo dello scorso anno torna la notte bianca del liceo classico che presenterà i suoi tre indirizzi tradizionale potenziato e sperimentale europeo intervierà il professor Ivano Dionigi già rettore dell'Alma Mater Studiorum di Bologna che illustrerà il suo libro Il presente non basta nonché una ricerca condotta dall'Università di Bologna sui risultati a distanza degli studi classici domenica 15 gennaio dalle 15 alle 19 aprirà le porte il liceo Vico con i suoi cinque indirizzi linguistico scienze umane socio-sanitario economico-sociale motorio-sportivo nella tre giorni non mancheranno mostre cineforum rappresentazioni teatrali ed esibizioni della Vico Video Music Band che l'orientamento cominci e sabato sera al teatro con la traviata al via il secondo incontro della stagione di prosa per il teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona possiamo dire tira il vento della rinascita del servizio dopo il battesimo di Giulio Scarpati e Valeria Solarino con una giornata particolare sabato 14 gennaio si torna a teatro con il balletto della traviata cura della compagnia Artemis Danza e di Monica Casadei l'appuntamento è alle ore 21 e si tratta le secondo le sei spettacoli della nuova stagione di prosa promossi dall'amministrazione comunale in collaborazione con ACS Abruzzo Circuito Spettacolo che la stagione di prosa sia un gradito ritorno per la città di Sulmona lo conferma il sindaco Anna Maria Casini insieme all'amministrazione ritengo sia importante ripartire dal teatro per rilangiare la cultura coinvolgendo le associazioni culturali che sono una grande risorsa e una potenzialità per la nostra città e per il nostro territorio sottolinea il primo cittadino tornando sulla serata inaugurale dell'Epifania quando nonostante la neve e la bufera Sulmona è tornata a teatro a riscosso successo lo spettacolo una giornata particolare per la regia di Nora Venturini con Giulio Scarpati e Valeria Solarino i quali ringrazio per la disponibilità dimostrata insieme all'intero cast nell'aver incontrato il pubblico nel foyer del teatro rispondendo alle tante domande e curiosità poste dagli spettatori un bel modo per tenere a battessimo la rinascita della stagione teatrale di prosa a Sulmona aggiunge Casini per i Caniglia tira il vento della rinascita sabato 21 gennaio squadre olde di rugby in campo per ricordare Salvatore Di Padova e Marco Liberatore i due giovani regbisti morti nell'incidente sull'altopiano delle 5 miglia nel gennaio 2014 al terzo memorial al Salvatore e Marco parteciperanno 5 formazioni oltre a quella locale della Gufi Old Sulmona ci saranno l'Old Avezzano la Triari Roma l'Escort Rugby e la Old Napoli Old Rugby appuntamento per sabato 21 gennaio al campo in località incoronata a partire dalle 14 e 30 e adesso parliamo di alcuni appuntamenti la camerata musicale sulmonese organizza per domani alle 17 e 30 nella sala azzurra della sede della camerata in Vico dei Sardi il concerto del pianista Silvio Contestabile l'ingresso per tutti dunque anche per gli abbonati della camerata musicale è di 5 euro altro appuntamento in programma domenica 15 gennaio alle 17 e 30 al Cinema Pacifico ci sarà il concerto del pianista Lionel Morales ingresso 10 euro per gli abbonati e valido il tagliando numero 12 torna a Sulmona la festa di Sant'Antonio Abate appuntamento per domenica 15 gennaio a mezzogiorno in piazza Garibaldi quando si terrà l'antico incontro della benedizione degli animali e dunque l'organizzazione invita tutti a partecipare con i propri amici animali per la benedizione che sarà impartita dal parroco di Sant'Agata della chiesa di San Filippo Neri Monsignor Don Aladino De Iulis il raduno ci sarà alle 11 e 30 sul plateatico della piazza al lato della chiesa di San Filippo e a mezzogiorno appunto ci sarà la benedizione degli animali l'11 gennaio di sei anni fa la nostra emittente Onda TV perdeva il proprio fondatore Gino Presutti che vogliamo ricordare così l'11 gennaio di San Filippo E prima di concludere, come al solito, torniamo a fare il punto della situazione sul meteo in Abruzzo. La nostra penisola continua ad essere interessata dalla presenza di un nucleo di aria gelida posizionato sui vicini Balcani e sull'Adriatico centro-meridionale. Di conseguenza permangono condizioni di stabilità e temperature ben al di sotto delle medie stagionali. Una situazione, secondo il bollettino meteorologico del portale www.abruzzometeo.org, che continuerà a favorire nevicate, soprattutto lungo la fascia orientale della nostra regione, anche in pianura e lungo la fascia costiera. La tendenza è verso un graduale miglioramento nelle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. In particolar modo dal pomeriggio e dalla sera assisteremo ad una graduale attenuazione della nuovolosità e dei fenomeni a partire dal teramano. Mentre domani il miglioramento sarà più deciso e sarà seguito da un rapido aumento delle temperature. L'aumento delle temperature è atteso dalla serata di domani e dalle prime ore della giornata di venerdì. Ma se da un lato, tra giovedì e venerdì, le temperature aumenteranno sensibilmente da venerdì sera e nel fine settimana, torneranno a diminuire, portandosi nuovamente al di sotto delle medie stagionali a causa dell'arrivo di masse d'aria fredda provenienti dall'Europa settentrionale. Tra un po' ascolteremo meglio le condizioni del tempo. Adesso possiamo vedere i film in programmazione alla multisala Igioland di Corfinio. Mister Felicità con proiezioni alle 18 e alle 21 e 10. Sing alle 18 e 10 e 20 e 30. Collateral Beauty alle 18 e 20 e 21 e 10. Bene, è veramente tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo. Buona giornata a tutti voi. Sulla nostra regione condizioni generali di cielo molto nuvoloso coperto, soprattutto sul settore orientale, nel Terramano, nel Pescarese e nel Chietino con precipitazioni sparse a prevalente carattere nevoso. Non si escludono fenomeni di moderata intensità, ma la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni a partire dalle ore serali e nella giornata di domani. Cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, sull'Aquilano e sulla Marsica con temperature molto basse e gelate diffuse. Temperature in ulteriore, lieve diminuzione, specie sul settore orientale, gelate diffuse sulla Marsica e nell'Aquilano. Venti deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera. Mare generalmente mosso o molto mosso. Grazie. 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 Grazie.